Sapete qual è la differenza tra la pasta saldante e il flussante? Entrambe sono sostanze utilizzate nel processo di saldatura, ma hanno funzioni diverse. La pasta saldante è una miscela di lega saldante come stagno e piombo e un agente di flusso. La sua funzione principale è fornire il materiale di saldatura e viene generalmente applicata sui punti di contatto delle giunzioni prima della saldatura. Durante il riscaldamento la pasta saldante si liquefa e crea una connessione saldante tra i componenti. Inoltre la pasta saldante può contenere anche altre sostanze come resine o agenti antiossidanti per proteggere le giunzioni saldate. Il flussante invece è una sostanza chimica utilizzata per pulire le superfici dei materiali da saldare e migliorare quindi il processo di saldatura. Viene applicato prima della saldatura per rimuovere l'ossido e può essere sotto forma di pasta, liquido o in polvere ed è spesso a base di resine o acidi. Seguitici per altri contenuti come questo!